Salve il popolo di Eurogamer, io sono Elite e vi do nuovamente il benvenuto su The Division e in questo video ho intenzione di mostrarvi quella che sarà la Dark Zone, che cos'è, come è strutturata e come funziona. In linea molto teorica la Dark Zone sarà una delle due attività principali che si potranno svolgere in The Division, una sarà la storyline con le missioni della storia, le cinematiche e in generale tutto ciò che comprende una campagna giocatore singolo o cooperativa, l'altra invece sarà la Dark Zone appunto. E per accedere a questa attività non bisognerà selezionare determinate opzioni attraverso il menu di gioco, no, molto banalmente quando sarete già nella mappa di gioco col vostro agente, andando in determinate zone, che per la precisione sono sei quartieri, che corrispondono a sei blocchi nella mappa di The Division, entrerete automaticamente nella Dark Zone, ossia quest'area di gioco caratterizzata dall'essere PvPVE, terminologia propria degli MMO che identifica un'area di gioco che comprende caratteristiche sia del PvE, ossia la presenza di nemici controllati dall'IA e da eventuali NPC, come ad esempio i Vendors, che del PvP, come ad esempio eventuali altri giocatori e altri agenti con cui naturalmente potrete interagire. Prima di proseguire apro una piccola parentesi. Per avventurarvi nella Dark Zone potrete passare da una safe house, sarà segnata normalmente sulla mappa, dove potrete decidere se avventurarvi da soli in una squadra di amici fino a 4 giocatori o essere matchati con dei giocatori casuali. Una caratteristica che subito sarà evidente una volta messo piede nella Dark Zone sarà la presenza di una seconda barra esperienza, perché a fianco a quella del livello di base sarà presente anche il rank della Dark Zone, ossia una seconda barra di progresso con i livelli che vanno da 1 a 99 che molto banalmente rappresenterà il nostro livello in questa sezione del gioco e che al raggiungimento di determinati rank, per esempio al grado 30, al grado 50 e così via, ci permetterà di acquistare determinati equipaggiamenti, armi o pezzi di armatura dai diversi Vendors che si trovano appunto all'interno della Dark Zone. Ma adesso facciamo un passo indietro, che cosa possiamo fare o cosa dobbiamo fare all'interno di quest'area di gioco? Come vi ho accennato prima ci saranno 6 area della Dark Zone, ognuna con un determinato range di livello, per esempio dal 10 al 12, dal 13 al 15 e così via. E sottolineo, livello non rank e il motivo principale per cui ci avventureremo nella Dark Zone sarà per procurarci loot, procurarci equipaggiamenti, armi o armature di livello superiore a quelle che già possediamo. E per poterci procurare questo loot, possiamo andare a uccidere i mob controllati dagli A, con eventuali boss di area o di livello, che una volta uccisi magari ci possono droppare un'arma superiore o leggendaria. E oltre a questo, che è soltanto un esempio alla fin fine, ci sono diversi modi per ottenere loot. Però tutto ciò che droppiamo non potremo utilizzarlo nel momento esatto in cui lo droppiamo, perché sarà contaminato. E quindi per poter rendere questo equipaggiamento utilizzabile, dovremo recarci presso un punto di estrazione, attivarla e attendere circa due minuti che tutto vada a buon fine. Molto importante inoltre sottolineare che tutto ciò che si dropperà nella Dark Zone sarà contaminato, fatta eccezione per ciò che si acquisterà dai vendors. E fin qui sembra tutto molto semplice, ma non sarà così perché entra in gioco la componente PvP, ossia la possibilità di trovare altri giocatori. E questi ultimi potranno tranquillamente ignorarci o attaccarci e provare ad ucciderci. E se ci riusciranno potranno rubare tutto il nostro loot. Per loot inteso quello nella Dark Zone, quello ottenuto in quella sessione di gioco, quindi quello contaminato. Non le armi e gli equipaggiamenti che avevamo equipaggiati, tranquilli. Nel farlo però naturalmente ci sarà una penalità, perché quando si attaccherà un altro giocatore, e sottolineo quando si attaccherà primi, non quando si risponderà al fuoco, si verrà marchiati come Rogue, uno stato in cui saremo marchiati appunto da questo titolo, Rogue, e durante il periodo di questo marchio saremo visibili da tutti i giocatori nella nostra sessione di gioco sul radar. Inoltre ci sono 5 livelli di Rogue. Naturalmente più si uccide, più si aumenta di grado fino ad arrivare al grado 5, dove verranno richiesti 5 minuti senza colpire nessun altro giocatore per far sparire il marchio. Inoltre, esattamente come succede per i Rogue, appena farete partire un'estrazione, appena parterà il conto alla rovescia per l'estrazione, tutti gli altri giocatori verranno allertati, e quindi potranno tranquillamente vedere sul radar la vostra posizione. Bene, adesso vi ho esposto bene le meccaniche PvP e PvE di questa modalità di gioco della Dark Zone. Vi ho citato prima il rank, ossia una seconda barra di progresso, che sarà presente soltanto all'interno di quest'area. Ma come si salirà o si scenderà di rank? La risposta è in diversi modi. Si potranno acquisire dei punti che faranno successivamente aumentare il rank, uccidendo eventuali mob controllati dagli A, uccidendo i Rogue, oppure facendo scadere il timer come Rogue, quindi diventando Rogue e successivamente attendendo che questo stato svanisca, naturalmente sopravvivendo per l'intera durata. Ho anche accenato però al fatto che questo rank potrà diminuire. Infatti, quando voi diventerete Rogue, quindi quando ucciderete qualcuno che non sarà Rogue, quando ucciderete un innocente, oppure ogni volta che morirete perderete dei punti. Infine, prima di salutarci, volevo introdurvi a una meccanica classica degli MMO che sarà presente anche qua in The Division, ossia l'aggro. Molto banalmente consiste in una meccanica di gioco, in una statistica, che ogni giocatore possiede e quando si fronteggiano, quando si ingaggiano dei mob controllati dall'IA, il computer attaccherà sempre il giocatore con l'aggro maggiore. E per favorire queste statistiche sono presenti delle mod per armi, come ad esempio dei silenziatori che andranno ad aumentare o diminuire questa statistica. E all'atto pratico, in genere, negli MMO, è chi gioca un ruolo difensivo, un ruolo di tank, che dovrà concentrarsi sull'incrementare il proprio aggro, così da attirare il fuoco nemico, prendere i più colpi possibili e dare tempo ai propri compagni di uccidere i nemici più importanti. E questa meccanica di gioco si rivelerà molto utile nel momento in cui dovremo uccidere un boss di aria all'interno della Dark Zone per poterci accaparrare il loot. Dunque ragazzi, il video volge al termine. Questo era come funziona la Dark Zone, struttura di base, meccaniche di gioco e in che cosa alla fin fine consiste. Dicendo questo, io vi saluto, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi invito a lasciare il vostro feedback con un voto e un commento e mi raccomando seguite sempre Eurogamer.it. Ciao a tutti ragazzi!